Furto di mascherine al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo è il secondo nel giro di soli pochi giorni. In questo caso alcuni ignoti hanno portato via dalla radiologia due scatole contenenti le mascherine per la protezione del viso lasciate all'interno dei locali. Il primario del pronto soccorso ha già presentato denuncia. Non si tratta purtroppo di un caso isolato, solamente qualche giorno fa era stata infatti portata via un'altra scatola con circa 50 mascherine. Intanto all'ospedale San Donato di Arezzo sono schiattate le nuove regole con il pre-triage al pronto soccorso effettuato all'esterno sotto tende montate dalla protezione civile per i casi sospetti. Si tratta delle nuove misure decise dalla regione a seguito dell'ultima riunione della task force. Tra le altre novità anche l'arrivo di un maxi quantitativo proprio di mascherine per i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia. Entro la settimana ne dovrebbero arrivare 600.000 ulteriori quantitativi nelle prossime settimane. Le mascherine sono presenti in ospedale. Abbiamo iniziato già ieri sera a comunicare ai medici di medicina generale che anche per loro sono disponibili due diverse tipologie di mascherine che sono dispositivi di protezione individuale che servono a garantire la protezione dei pazienti e degli operatori.